ben trovati amici di Polini Italian Cup anche per chi ci segue dall'estero welcome guys siamo pronti ready for 60 Evo Supersport la 70 Evo Supersport pronta a partire ecco i piloti che raggiungono il tratto finale si scaldano le gomme prima del via siamo in vista degli otto giri di gara come tutte le competizioni scooter che vedremo oggi 70 Evo Supersport pronta a dare gas qui sul circuito di Cervesina andiamo a vedere la situazione di campionato alla vigilia di quest'ultimo round Martin Michael al comando della classifica con 167 punti 10 di vantaggio su Stefano Raineri e ad altri 10 punti in terza posizione in campionato c'è Gabriele Beghelli per cui un campionato apertissimo e andiamo a scoprire la prima fila con Stefano Raineri numero 36 che condivide la prima fila con il numero 30 Gabriele Beghelli del Frisoni Performance e poi con il numero 151 Filippo Benini Trippi Racing Team e poi abbiamo in seconda fila il leader di campionato numero 75 Martin Michael Sinter Racing poi insieme a lui il numero 155 Fabio Lorenzini e lo spagnolo Perez Pardo ci siamo pronti gli occhi vanno sul semaforo e la partenza della 70 Evo Supersport velocissimi Benini e Beghelli abbiamo visto pagare leggermente in partenza Stefano Raineri che vediamo se è riuscito a liberarsi degli avversari sì è già al comando una prima curva da paura dove ha approfittato subito degli avversari andiamo a vedere la seconda posizione Benini attaccato dal numero 75 Martin Michael ecco intanto il gruppo che insegue mentre si susseguono gli attacchi abbiamo visto ancora Martin Michael provare in terza posizione l'attacco sul numero 151 di Filippo Benini e ora tutto il gruppo che va ad affrontare il curvone centrale del circuito di Cervesina due chilometri ottocento metri per una 70 Evo Supersport che ha come primato 1 e 35 il tempo di percorrenza per i protagonisti di questa classe ben 20 piloti che si stanno contendendo la vittoria finale intanto Martin Michael prova a superare e riesce quantomeno ad affiancare Benini mentre guardate dietro si apre a ventaglio tutto il gruppone di questa 70 Evo Supersport ecco nel frattempo Raineri che prova ad allungare sul resto del gruppo guardate con quale velocità passano davanti all'obiettivo la regia che inquadra proprio il gruppo di testa con Raineri Michele Benini ed in quarta posizione Gabriele Beghelli quinta posizione per il numero 155 Fabio Lorenzini guardate Raineri come si lancia all'interno di questa curva sinistra andiamo a vedere ancora questa lotta sempre sul circuito Tazio Nuvolari bellissimo duello con Marti Michele che prova a resistere agli attacchi dei piloti che lo inseguono attenzione quindi cambia tutto al comando ora Martin Michele deve regolare gli attacchi degli avversari in quarta posizione c'è Stefano Raineri che paga una piccola indecisione al termine del rettilineo bellissimo duello ancora tra Martin Micael ed il numero 47 Perez Pardo il pilota spagnolo che testimonia ancora la velocità degli amici e riders avversari della Spagna già conosciamo molto molto bene Juan Oliva ma devo dire che anche questo Perez Pardo si dimostra un avversario temibile nella 70 Evo Super Sport ora sfruttano le scie e Benini e Martin Micael ripassano davanti si va al terzo giro bellissimo attacco di Stefano Raineri che si riporta al comando numero 36 ecco di nuovo le immagini gruppo compattissimo sembra una gara della moto 3 talmente sono compatti questi piloti un gruppo di quasi 10 piloti che vanno tutti con lo stesso passo vi ricordo 8 giri di gara ora è pronto a ripassare all'attacco il numero 30 Gabriele Beghelli del Frisoni Performance mentre andiamo a ricapitolare le posizioni Raineri Beghelli nelle prime due posizioni poi in terza posizione il numero 75 Martin Micael in quarta posizione Perez Pardo in quinta posizione Lorenzini ecco la classifica che vediamo in sovraimpressione Raineri Beghelli Micael Pardo in quarta posizione quinto Lorenzini sesto Marco Micael settimo Benini ottavo Corren nono Ivan Calce e decimo Jacques Pagliai mentre la lotta per la prima posizione si tinge nuovamente di rosso Raineri e Beghelli si stanno contendendo la vittoria finale ma insieme a loro c'è il leader di campionato Martin Micael campionato ancora apertissimo e a testimonianza di ciò abbiamo otto piloti che vanno tutti in una stessa inquadratura questa la competizione di questa 70 Evo Super Sport con i motori sollecitati al massimo sul velocissimo circuito di Cervesina una media di 105 chilometri orari come percorrenza come velocità media mentre punte come abbiamo detto per la 100 Big Open che supera i 165 chilometri orari ecco il gruppo di testa che torna sul rettilineo come sempre inquadrato dalla regia di Paddock Beghelli al comando davanti a Raineri secondo il numero 36 terzo il numero 75 Martin Michel poi quarto Filippo Benini numero 151 quinto il numero 155 Fabio Lorenzini sesto Marco Michel settimo Perez Pardo ottavo Coren nono calce e decimo Jacques Pagliai questa la top 10 della 70 Evo Super Sport si riapre il gas guardate come sfruttano al massimo la scia tutti in carena forse favorito chi ha un'altezza un po' più modesta chi ha meno ingombri in sella al proprio scooter per sfruttare al meglio l'aerodinamicità sul velocissimo circuito Tazio Nuvolari al prossimo passaggio mancheranno due giri al termine ed ecco nuovamente Filippo Benini che si è portato al comando davanti a Raineri e Martin Miquel che è secondo di stacchi praticamente invariati tra i tre anzi si scambiano nuovamente le posizioni ora vediamo chi al termine del curvone dopo il rettilineo spunta al comando ed è Raineri attaccato però all'interno da Benini che passa mentre allarga la traiettoria Martin Miquel che rimane terzo ultimi due giri in quarta posizione c'è sempre Gabriele Beghelli ecco le suggestive immagini guardate il corpo a corpo tra Lorenzini numero centocinquantacinque e il numero settantasette Marco Miquel gomiti larghi ma abbiamo visto attacchi all'insegna della sportività mentre ci troviamo nel tratto centrale immagini che vanno ancora su Filippo Benini che tira al massimo la staccata mentre Raineri arriva velocissimo ed aggressivo all'interno ora Beghelli attaccato Martin Miquel numero 30 si porta in terza posizione ma ora attenzione inizia ufficialmente l'ultimo giro ultimo giro iniziato è il numero 36 Raineri che balza al comando supera tutti però il numero 30 Gabriele Beghelli è sua la prima posizione otto piloti racchiusi in un secondo questa la 70 Evo Super Sport all'ultimo giro duelli infiammati ecco Beghelli nuovamente al comando numero 30 in seconda posizione Raineri tallonato braccato dal numero 151 Filippo Benini si riaffaccia anche Lorenzini in quinta posizione numero 155 immagini che prendono tutto il gruppo di testa capitanato in questo momento da Raineri che viene attaccato da Benini vediamo chi chiuderà al meglio sul cordolo molto bene Raineri che si trova ancora davanti ma bisogna pensare al rettilino di partenza dove sicuramente il gioco delle scie sarà ago della bilancia qui sotto la bandiera scacchi bellissimo attacco di Filippo Benini che passa al comando prova a sfruttare la scia Raineri ma andiamo a vedere il risultato finale vince Filippo Benini che dedica la vittoria al suo team secondo Stefano Raineri terzo Beghelli quarto Lorenzini quinto Martin Michael sesto Luca Koren settimo Marco Michael quindi tre piloti sloveni dalla quinta alla settima posizione ottavo lo spagnolo Perez Pardo siamo quindi pronti al via di gara due della settanta Evo Supersport occhi puntati sul semaforo sempre dal circuito di Cervesina abbiamo visto le bandiere spostarsi la massima attenzione sulle luci che tra poco si spegneranno e daranno il via a gara due settanta Evo Supersport vediamo Lorenzini scattato benissimo il numero centocinquantacinque un buon vantaggio sul secondo che è Martin Mikael che sorpasso il pilota dell'iRace Racing Team che ora prova a fuggire su Lorenzini e poi andiamo a vedere la terza posizione dove c'è il suo avversario di sempre numero 36 Stefano Raineri che abbiamo visto totalmente carrenato in carena pronto ad attaccare Martin Mikael al momento Mikael Lorenzini e Raineri le prime tre posizioni otto giri di gara 70 Evo Supersport Final round Cervesina circuito Tazio Nuvolari spettacolissimo per questa gara due della 70 Evo Supersport ecco Martin Mikael sempre al comando si va sul rettilineo ecco la classifica in sovraimpressione dove compare Lorenzini primo ma perché era aggiornata al giro precedente tra poco si dovrebbe aggiornare la grafica infatti come vedete Martin Mikael Lorenzini e Raineri ma ovviamente poi con il gioco delle scie cambia tutto abbiamo visto l'attacco di Stefano Raineri il numero 36 bellissimo sorpasso sullo sloveno volante Martin Mikael e andiamo ora a vedere le altre posizioni perché da segnalare in quarta posizione abbiamo Gabriele Beghelli quinto Benini sesto Perez Pardo poi settimo Marco Mikael ottavo Cionna nono Coren e decimo Jacques Pagliai un gruppo compatto ancora con i primi tre che stanno provando a forzare l'andatura ma non è poi così facile l'importante è tenersi in scia ed arrivare sul rettilineo a contatto con l'avversario che ti precede questo è quanto abbiamo visto in tutte le gare di questo final round di Cervesina ecco Raineri in carena dietro Martin Mikael prepara l'attacco passa ancora Raineri davanti a tutti respingendo l'attacco di Martin Mikael avversari in gara due ma avversari anche in campionato Beghelli quarto la terza forza in campo un altro dei pretendenti alla vittoria finale della 70 Evo Super Sport ma sarà solo la bandiera scacchia da Rellè verdetto finale nel frattempo immagini su Marco Mikael sempre settimo mentre abbiamo visto l'attacco di Benini che sta provando a tornare sotto i primi due eccoli Curvone a sinistra Curvone a sinistra bellissimo duello ancora tra questi due duello che che vale gara due ma soprattutto vale il campionato 70 Evo Super Sport si affiancano i due si affiancano all'esterno Raineri vediamo come si evolve questa lotta preferisce accodarsi ancora Martin Mikael anche se devo dire che le staccate sono al limite per tutti e due stanno veramente forzando ma insieme a loro arriva anche Benini in Livrea nero blu Polini e poi in quarta posizione il duello tra Beghelli e Lorenzini il tutto mentre tra poco transiteranno nuovamente sul rettilineo per l'inizio del quarto giro immagini che vanno a seguire proprio il numero 155 Fabio Lorenzini poi in sesta posizione ricordo c'è Marco Mikael settima posizione Perez Pardo ottava posizione per Nicolò Cionna nona posizione per Luca Koren e decima posizione per Ivan Calce corsia box che si sbraccia per segnalare ai propri piloti le posizioni e le indicazioni per portare al termine la gara nel migliore dei modi una manciata di punti per il campionato 70 Evo Super Sport Rainer riattacca Martin Mikael sempre vicino quattro giri al termine intanto in pit lane rientra Francesco Ciccio Buscema dopo un problema tecnico a questo punto mancano all'appello anche Daniele Rossi Diego Falardi e Jacques Pagliai che ha un giro in meno rispetto agli avversari ma torniamo davanti con ancora immagini su Raineri e Martin Mikael dietro Benini non so come ma è riuscito a mettere tra sé il numero 30 Beghelli qualche metro giro veloce intanto per Filippo Benini giro più veloce di tutti 1 34 582 quando mancano tre giri al termine condizione meteo che rimane soleggiata anche se il cielo si è coperto questo ha fatto sicuramente diminuire leggermente la temperatura ma ancora ottimale la condizione dell'asfalto guardate intanto dietro lotta per la terza posizione tra Benini Beghelli e Lorenzini terzetto compatto in terza quarta e quinta posizione cinque piloti che hanno fatto il vuoto poi sesto Marco Mikael numero 77 l'abbiamo visto inquadrato per qualche istante settimo il numero 63 Nicolò conna ottavo Ivan calce nono inversini decimo Ghiroldi ecco nuovamente l'attacco di Martin Mikael che questa volta ce la fa passare Raineri ma arriva subito la risposta del numero 36 si affidano totalmente alla ciclistica e al grip delle gomme i piloti in questa fase finale tre giri al termine tutto questo ha favorito anche il rientro di Filippo Benini che si accoda ai primi due e ora potrebbe anche provare l'attacco e lo fa lo fa al termine del rettilineo Benini giro record 1-34-1 è stato un secondo più veloce di tutti bellissima prestazione di Benini che in un solo giro ha annullato il suo distacco dai due piloti che lo precedevano ovvero lo sloveno Martin Mikael e l'italianissimo Stefano Raineri penultimo giro iniziato due giri al termine poi andremo in sella le Vespe del trofeo Vespa 185 quattro tempi attenzione perché sono tornati sui primi tre anche Beghelli e Lorenzini quindi cinque piloti che si stanno giocando la vittoria di gara due ma non dimentichiamoci la classifica del campionato da tenere d'occhio con Martin Mikael che deve difendere la sua leadership su Raineri e Beghelli penultimo giro eccoli sul rettilineo Martin Mikael davanti affiancato dal più minuto Stefano Raineri leggerissimo quindi un po' più avantaggiato sul rettilineo ma a sorprendere i due c'è Gabriele Beghelli inizia ufficialmente l'ultimo giro Beghelli che nel tratto misto viene superato da tre piloti ovvero Raineri Martin Mikael e Benini una classifica di campionato con Raineri che qualora arrivasse davanti potrebbe far suo il campionato quindi delicatissimo l'ultimo giro seguiamolo un altro campionato che si gioca qui a Cervesina l'ultimo round prova l'attacco Martin Mikael in palio il titolo 2019 della stagione 70 Evo Super Sport di Polini Italian Cap riapre il gas il pilota sloveno accodato a Raineri ecco i piloti che vanno alla chicane che precede il rettilineo vediamo come l'affrontano arrivo in volata vediamo se Martin Mikael riesce a prendere la scia ci prepariamo alla bandiera scacchi vince Stefano Raineri che fa suo anche il titolo 2019 della classe Super Sport davanti a Martin Mikael Filippo Benini Gabriele Beghelli e Fabio Lorenzini ringraziamo come sempre per le preziose segnalazioni il Motoclub Bergamo attentissimo ad una classifica della Super Sport che vedeva giocarsi il campionato veramente per una manciata di punti quattro punti per l'esattezza poi andiamo a vedere la terza posizione in gara per Benini bravo bravo Filippo Benini che sul finale di stagione dimostra la sua velocità ormai con qualsiasi mezzo dalle vespe alle vent derrapage agli scooter quarto Beghelli quinto Lorenzini 70 Evo Super Sport con una vittoria per un solo punto ma ce l'ha fatta Stefano Raineri Stefano complimenti grazie grazie veramente a tutti al mio team a Diego Pise Yuri veramente è stato fantastico ed è stato molto bello giocarsela fino alla fine però ce l'abbiamo fatta e sono veramente contento sale sul gradino più alto quasi